Secondo sequestro nel comune di Subbiano da parte del NOS del Corpo Forestale di Arezzo. È avvenuto nei giorni scorsi e è interessato un terreno ispezionato dai forestali e dall'ARPAT. È il secondo sequestro appunto dopo il terreno che si trova dietro il cimitero urbano del paese avvenuto i primi giorni del 2015. Non è certo che si tratti della stessa operazione ma il sequestro è sicuro come testimonia questa foto inviata alla nostra redazione da un telespettatore. Nel caso del terreno che si trova dietro il cimitero si era trattato, recitava il comunicato stampa dei forestali, di oltre 150 metri cubi di rifiuti sparsi alla rinfusa in epoche diverse ma continuative nel tempo, tanto che gran parte di questi rifiuti erano occultati dalla vegetazione perenne che negli anni vi era cresciuta sopra. Vi erano apparecchiature elettriche, elettroniche, frigoriferi, monitor, amianto, lastre di Ethernet, nonché una decina di secchi dell'imbondizia messi dal gestore del servizio integrato. Il tutto accompagnato da parti di tombe e loculi in mezzo a terre e rocce. L'intera area era stata sequestrata e il comune e l'ente gestore del servizio pubblico sono stati denunciati alla Procura della Repubblica. Adesso questo secondo sequestro, sempre nel comune di Subbiano, nei prossimi giorni sapremo se legato o no all'operazione di inizio anno. Ad ogni modo è da rimarcare la massima collaborazione e correttezza del comune di Subbiano per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità anche pregresse.